Importantissimo scontro diretto in chiave promozione diretta Stox Aspirin, la spuntano i Stox, il commento di Pietro D'Arca. E gli Stox di Capitano Rizzo, che oggi siederà in panchina senza entrare neanche un minuto, disposizione al sacrificio del Capitano, che registrano soltanto l'assenza di scambri a causa di un incidente. Ma partiamo subito e partono benissimo appunto gli Stox con Dispenza, che appoggia subito per Pellegrino, che tira di poco a lato. Risponde Coroneo, che salta sorce e tira debole, il tiro è debole sul quale Paracino è sicuro. Ancora Coroneo, ma ancora Paracino respinge. Sul ribaltamento di fronte ci prova Pellegrino, che tira una bomba ed esce di pochissimo, palla che spizzica il palo. Ma gli Aspirina sono più in palla in questo inizio di primo tempo e si vede quando Russo pesca con un diagonale bellissimo da centrocampo. Coroneo, che non sbaglia, da un metro e sigla l'1-0. In questo momento gli Aspirina stanno facendo vedere un bellissimo calcio, ma gli Stox hanno carattere, hanno grinta. E si vede quando ci provano prima con Accardi, che è servito bene da Dispenza e conclude leggermente centrale, il tiro è leggermente centrale sul quale Randazzo non ha fatica a bloccare. Ma si vedrà il carattere degli Stox, soprattutto quando Pellegrino dalla destra pescherà Dispenza, che stopperà forse con la mano, forse con l'addome. Però sicuramente il tiro di destra è infallibile, la palla che sbatte sul palo e si infila per l'1-0. Ancora c'è spazio per gli Stox, conclusione da fuori di Pellegrino che esce di pochissimo, ma ancora gli Stox sono bravissimi e vanno in messi, portano il direttore in vantaggio con Merletta. Il fantasista che si invola e di sinistro non lascia scampo agli Aspirina e prima della fine del primo tempo registreremo ancora un altro tiro bellissimo di Pellegrino che sfiorerà il 3-1. Finisce il primo tempo bellissimo che hanno dato spettacolo a entrambe le squadre, gli Stox che però l'hanno spuntata per il momento e la spunteranno anche alla fine della partita. E si vedrà quando nel secondo tempo partiranno benissimo gli Aspirina che con le conclusioni di Gatto e di Mecca, sulle quali sarà attentissimo Paracino, ma Paracino sarà straordinario e si salverà quando Coroneo si esibirà in una splendida rovesciata e Paracino si allungherà sulla sua sinistra a evitare il pareggio. Ma è proprio Paracino che salva i suoi quando i suoi fanno vedere grande carattere e lo dimostrano appunto andando in gol. Inutile dirlo ancora con Merletta che si invola sulla destra e di sinistro rompe la rete e porta i suoi sul 3-1. Non c'è tempo per gli Aspirina che si ritroveranno immediatamente sul 4-1 per la tripletta di questo splendido fantasista che ancora con uno scatto lascia dietro tutti e di destro alle spalle del portiere arancio porterà i suoi sul 4-1. Ci provano ancora però gli Aspirina, provano una timida reazione all'inizio con i vari Gatto e Coroneo sui quali il primo non c'entra alla porta e sul secondo sarà sicurissimo Paracino. Coroneo andrà due volte in gol ad accorciare le distanze, prima da lontano un tiro sul quale Paracino non è irresistibile e gli passa sotto la pancia e porta i suoi sul 4-2. Ma per la tripletta personale Coroneo sfrutterà benissimo un cross in mezzo da parte di Veca e porterà i suoi sul 4-3. Adesso gli Aspirina ci credono e si scoprono e fanno un grande errore in quanto sarà Dispensa a punirli per due volte. E porterà anche un altro 0,2 per gli Stoxx che prima accorcerà la distanza con un bellissimo tap-in da vicinissimo per la doppietta personale e per la tripletta. Non sbaglierà un gran tiro di destro in volato a rete, in contropiede, praticamente solo di fronte al portiere arancio. Nel finale ci sarà tempo per uno show di Merletta che distribuirà assist ai vari pellegrini e sorce che non riusciranno a chiudere la partita. A chiudere la partita ci pensa l'arbitro, bellissima partita, la spuntano gli Stoxx, 6-3, grandissimo match. Si può dire che gli Aspirina piangono con un occhio perché fanno registrare comunque un più 0,2 per la classifica che non li vedrà sorpassati dagli Atomic perché con questo 0,2 andranno a parità di punteggio con la tripletta di Coroneo. Ma gli Stoxx si portano attendendo il risultato dei Galacticos momentaneamente prima in classifica. Una vittoria quindi che fa scavalcare gli Stoxx, gli Aspirina e toglie non soltanto il primo posto ma anche l'accesso diretto alla Serie A. Alla Serie A momentaneamente è così, però ancora il campionato è lungo. Diciamo che gli Stoxx oggi hanno dimostrato di essere una squadra che è lotta non solo per l'accesso diretto ma addirittura per il primato perché nessuno è inferiore all'ora e nessuno è forse neanche superiore. Oggi l'hanno dimostrato con un grandissimo gioco di squadra. I migliori in campo secondo te? Secondo me degli Stoxx è stato sicuramente Merlette in quanto in fase difensiva è stato perfetto e in fase offensiva è stato devastante. Un grandissimo fantasista che gioca partendo da dietro, un po' alla campagna diciamo. Per gli Aspirina invece qualcuno da salvare? Per gli Aspirina c'è da salvare sicuramente la fase offensiva con i vari Veca, Coroneo che hanno sicuramente disputato un ottimo match. Infatti quest'ultimo ha proprio portato a segno la tripletta che fa registrare comunque dei punti per quanto possono essere pochi, comunque per una sconfitta sono sempre importanti. Anche perché come ben sappiamo anche 0,2 punti saranno determinanti. Possono fare la differenza a fine campionata. Ringraziamo Pietro Dark, auguriamo a tutti gli auguri di buona Pasqua. Buona Pasqua.